Questa è colpa tua, lo sai vero? Oh ciao, sono Simone, ma tu puoi chiamarmi Simo. Oggi ho deciso di condensare in un unico giorno tutti gli esperimenti fatti negli ultimi 6 mesi. Perché l'ho fatto? Perché mi piace pensare che il nostro posto nel mondo non sia da sottovalutare. Il primo esperimento, come hai visto, è stato 30 giorni di sveglia alle 5 e mezza. Ah, ci siamo. La prima sfida da 30 giorni. Ma se pensi che quello sia stato brutto, allora non sai che il secondo è stato 30 giorni di doccia fredda. Da bravo paraculo avevo fatto i 30 giorni ad agosto. Farli adesso a novembre vi assicuro che ha tutta un'altra prospettiva. Ma il sussulto, cioè la strizza che si prova prima di un grande evento, un po' mi mancava. Quindi, andiamo. Quindi direi che tendenzialmente questo pensiero di meritarsi le cose è distruttivo. E sì, sto parlando tanto perché non voglio riaccendere. Mamma mia, se non mettete un like! Un'altra cosa che ho scoperto con questi esperimenti è che quando usciamo dalla nostra zona di comfort, allora si perde ogni maschera e si attiva la nostra vera personalità. Ah, adesso lavoro un po' al computer. Tra l'altro sto montando il video che tu stai guardando ora. Quindi magari commentalo scrivendomi cosa ti è successo quando ti sei spinto fuori dalla tua zona di comfort. A dopo! Questa è la sfida in cui devo bere per 30 giorni solo acqua. E che devo rinunciare? A un paio di caffè? Ok, forse è un problema. Ora di pranzo, ora di mangiare vegano, visti i 30 giorni da vegano. Ho deciso di mangiare una farinata di ceci, visto che è un legume abbastanza proteico e come sapete, o non lo sapete ancora, io ho una palestra, mi alleno, sono leggermente fissato con il cibo, eccetera. Buona! Ah, la farinata l'ho comprata con la confezione completamente di carta. Non voglio produrre plastica, o almeno, come dico nel video 30 giorni senza produrre plastica, voglio limitarne l'uso, soprattutto di quella usaggetta. Consuma e inquina di più, questa o questa? Che poi non mi spiego come siano nate alcune idee. Mmm, ci servirebbe qualcosa che possa contenere il cibo, ma in modo che si possa mangiare e subito dopo buttare. Usiamo la plastica? Ma non è un materiale inventato per durare millenni? Ah beh, se ti viene in mente alto. Vabbè, ma comunque, mi sa che col pranzo mi fermo qui, devo stare leggero perché pomeriggio farò una cosa che volevo fare da un po' di tempo. Andiamo a vedere. Per arrivare al campo d'arrampicata, ovviamente mi muoverò a piedi, visto che ho appena fatto 30 giorni muovendomi solo a piedi. Per fortuna, da quando ho preso questo, camminare per la città con lo zaino in spalla mi fa sentire molto Sam Porter Bridges. Quindi, andiamo! Ciao! 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 non so come ho fatto a portarla ma stasera portolana ovviamente senza mozzarella tra l'altro sfida vegana e anche sfida della plastica rispettate bingo la giornata è iniziata in modo impegnativo ma sul finale diciamo che ci siamo ripresi quindi ti perdono se non avevi visto tutti gli altri video e mi hai costretto a fare questo riepilogo ma per avere la coscienza pulita io un bel like e un'iscrizione la lascerei tu che dici peace